... Cari amici di Materia Prima Festival, prima di tutto voglio dirvi che siamo felicissimi, felicissimi di tornare in Polonia. L'altra volta era la prima volta che arrivavamo con un nostro spettacolo ed è stato un incontro con un pubblico meraviglioso, caldo, pieno di entusiasmo, bellissimo. Quindi pensare di ritornare con Donka, un progetto al quale siamo molto, molto, molto legati perché è uno spettacolo che ci ha portato in giro per il mondo. L'abbiamo portato per quasi sette anni da una parte all'altra del nostro pianeta ed è uno spettacolo che ci racconta molto, fragile, pieno di immagini surreali, che racconta di uno scrittore, Anton Chekhov, in un modo quasi naif, cercando di coglierne totalmente la sua fragilità, degli aspetti emotivi legati al suo modo di essere medico da una parte e scrittore dall'altra, che in un qualche modo raccontava quello che vedeva sintetizzandolo in modo molto semplice. Lo spettacolo è pieno di immagini che vi lasceranno sorpresi. Il nostro linguaggio, forse alcuni di voi incominciate a conoscerlo, è questo linguaggio del corpo virtuoso e di storie che si sovrappongono una all'altra. Gli attori sono quelli della compagnia che giocheranno con immagini strane. Immaginate che a un certo punto sulla scena tutto si trasforma in ghiaccio, la scenografia è tutta di ghiaccio, come sono in fondo tutti i personaggi cecoviani, fatti di quella materia che piano piano un poco si sfaccia, un poco si scioglie, che improvvisamente si spezza in mille pezzi. Allora, venite, ci vedremo, ci ritroveremo a Donka, ma soprattutto venite anche al festival, che quest'anno ho scoperto un poco la programmazione, sarà pieno di sorprese che vi lasceranno, credo, colpiti ed emozionati. Allora, a prestissimo, a prestissimo, conto di vedervi a Donka.